ciao a tutti amiche e amici benvenuti in questo mio nuovo video quello della decorazione della settimana sul mio midori questa settimana voglio provare a usare un po dei miei schizzi ultimamente magari rilassandoci un po sul divano io ho preso a pasticciare su questo block note mentre magari mio marito gioca la playstation ultimamente non siamo tanto da film ma tutto questo non c'entra un granché ho fatto dei disegnini così e così per rilassarmi degli schizzetti però colorati e quindi ho deciso di usarli per la decorazione andiamo iniziamo iniziamo Grazie a tutti. 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 Sono un po' scema, lo so. E niente, vabbè, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Vi mando il mio solito mondo di baci e tanta, tanta positività e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.